Ben trovati telespettatori del Sassano allo Stagno, questa settimana non potevamo non commentare con le persone che incontreremo a breve per strada i fatti di politica. Mi sto riferendo, come penso abbiate capito, all'addio di Bossi alla sua Lega Nord. Cosa ne pensate? Andiamo a sentire la gente ad orga. Comunque è una delusione unica, con tutto quello che sta succedendo. E quindi cosa facciamo? Qualcuno prima che ho incontrato mi diceva che non vado più a votare. Neanche noi. E' vergognoso, non si sa più da che parte girarsi. Quindi? Cosa facciamo? Beh, loro rubano, almeno così si dice, e noi paghiamo. Ma lei ci crede a questa cosa? Dicono che sia un complotto per abbattere la Lega in vista delle elezioni? Sono i giudici che vogliono soverchiare? Non lo so, mi sembra comunque che chi paga le conseguenze siamo sempre noi cittadini, questo è poco ma sicuro. Poi la magistratura farà il suo percorso. Qualcuno dice che se non avesse avuto nulla da temere, perché si sarebbe dimesso? Anche questo, anche io penso così. Non era il caso di dimettersi, se lui è così sincero. Poi non so. Prenderà una batosta la Lega? Sì. E adesso in mano a marroni. Cosa ne pensa di questo politico? Ma noi non andremo a votare. Chiuso, no. Delusi. È il nostro diritto. È un diritto anche... Ma a chiunque si vota però, si sente che rubano tutti. Quindi? Come la mettiamo? Hanno detto una cazzata in televisione, adesso ho parlato col barista. Hanno detto che superiore ai mille metri non pagano l'Imu. Ieri l'abbiamo sentito in due, bene. Lui dice proprio ieri l'hanno deliberata qui. In quanto siamo? 1.050. Ieri. Ho detto si informi alla regione Lombardia, magari... Comunque anche per l'Imu è veramente assurdo. Se uno c'è qualche mille euro da parte, il governo te li toglie. Se uno non ce l'ha, che fa? Vende la casa? È colpa del governo tecnico. Allora servivano i vecchi politici, che loro per tenersi buoni i voti... Eh no, ci volevano una cosa equa, una cosa giusta. Cioè, pian pianissimo è passata da un'estremità all'altra. E non è contenta? Eh no, perché se uno non ha soldi, che fa? Si vende la casa? Sa cosa devono fare secondo me? Devono dare più spazio ai giovani. Di fare politica. Forse è meglio. Quindi se ci fosse una rappresentanza di giovani... Più giovani forse è meglio. Perché vedo che sono affossati tutti. Perché dei giovani non c'è lavoro. Hanno i mutui sulle spalle, pagano anche l'Imu, cosa fanno? Pensi quanti posti di lavoro in politica. Cioè, per la serie di tutti i nostri politici... Tanta gente inutile. Anziani li mandiamo tutti a casa, mettiamo tutti i giovani, e noi creiamo un po' di posti di lavoro. C'è tanta gente inutile, che mangia, spese del popolo. Secondo la mia ignoranza, che non me ne intendo di politica, però sono cose un po' che si capiscono, anche se uno non ha fatto cose in scuole. Il motto Roma Ladrona allora dice che non si sentirà più in casa Lega? Sono parole che dicono Roma Ladrona, perché Roma Ladrona e poi vanno tutti a Roma. Ma vanno lì per sistemare le cose. Roma Ladrona, però, chi si è da Roma? Anche Bossi, no? È Roma Ladrona, non so. È vergognoso, è tutto lo schifo. Se lui chiama Roma Ladrona non ci andavo, no? Cosa ne pensa? Dico che non sia un complotto. Può essere, in questo paese è possibile tutto. Non so, si vedrà. C'è la magistratura, la politica farà il suo corso, vediamo. Si rispettava? No, forse la conclusione, non l'inizio, insomma, che scoppiasse questa cosa, no. Una volta che scoppia, poi ogni conclusione possibile. Hai simpatizzato da Lega oppure? Lo ero di più in passato, adesso sono un po'... Ha perso un po'? Sì, ma nei confronti di tutti. Non do alla Lega più colpe di quante non ne dia ad altri. E adesso si dice che il partito finirà nelle mani di Maroni. Buona scelta? Oppure ci sarà un complotto anche contro di lui, come qualcuno dice? Ma non lo so, Maroni di sicuro ha fatto un ottimo lavoro come ministro degli interni. Non ho motivo di dubitare che non sia anche un ottimo organizzatore politico. Di sicuro se è lui il predestinato, la scelta non è delle peggiori, anzi. Probabilmente è l'unica possibile. Tutto è possibile, comunque. Sono cose che possono succedere. Come possono succedere? Anche in casa nostra può succedere cose, anche tra marito e moglie. Quindi non... L'essenziale è che si mettano a posto. Il marito ruba i soldi alla moglie, la moglie ruba i soldi al marito. Succede in tutte le buone famiglie. Questa cosa che è della ristrutturazione della casa, che non si sa chi l'ha pagata, modello scaiola. Secondo me non si possono dare giudizi se prima non siano gli elementi. Leggiamo i giornali, leggi 4-5 giornali, uno dice una cosa diversa dall'altra. E come si fa a trovare un compendio e stabilire chi ha ragione? È difficile. Lei se la sospettava questa cosa? Eh? Se la aspettava la Lega che diceva sempre Roma ladrona, Roma ladrona, rubano i soldi. No, ma basta vedere un po' come sono le cose. Dopo Lusi, Fini l'ha fatta Franca, adesso Penati la farà Franca anche lui. Adesso vediamo un po' cosa salta fuori, ma bisogna avere coraggio di andare avanti. La faranno Franca anche loro? Secondo me la faranno Franca anche quelli della Lega. Cioè qualche cosina, daranno la colpa probabilmente ad una persona che non ha il sistema, oppure il sistema, come fa a capire queste cose? Cosa ne pensa? Che non andrò più a votare. Dece stesso. Lei è un leghista convinto? No, ho votato Lega, qualche volta non l'ho votata però, ma forse ganaragnacolpa. Nel 2013 ci andranno le votazioni, secondo lei come andrà a finire? I votanti sì. Butteremo via le schede. Perderanno un po' di voti dopo questa storia? Boh, bisogna vedere chi va e cosa presentano. Certo che la fiducia è vietata. Dici che è stato un po' rotta la magia? Eh, penso. Boh. Lei se l'aspettava? Io dai politici me lo aspetto di tutti. Quindi questioni di destra, di sinistra, al centro, sopra, sotto? No, per me è sbagliato anche avere i politici. Dovrebbero mettere tutti dei professionisti e basta. Come in questi giorni, in questi mesi? Gente che ha finito di quel lavoro se ne va a casa per i fatti soli. Va a fare il lavoro che faceva prima. Non quelli che stanno lì sulla sedia per 50 anni di fila? No, no, per me è sbagliato. Io sono stato 40 anni in Svizzera, là è così. Là la politica, i politici non... Sono tutti professionisti. Arrivano, fanno ciò che devono fare e dopo tutto... Finito il mandato, due anni o quattro, poi sei va. Va a fare il semestre del primo. L'ha visto? Sì, funzionerebbe tutto meglio, ci sarebbe meglio. Non lo so. Non sarebbe da vedere. Ma adesso lo aspettava? Io? Ma lo aspettavo da vent'anni. L'anno dopo. Ma cosa? I bossi. No, mi dispiace per la Lega, per il partito. Per il partito mi dispiace. Perché loro ci credevano, bravi. E lui, forse ha sbagliato, forse... Comunque sarà la magistratura che farà le sue indagini, vedremo. A me mi dispiacciono sempre queste cose, perché poi, povera Italia, insomma. Qui non è solo bossi. Qualcuno diceva che la Lega era forse l'unico partito su cui ci si poteva fidare, che non toccava soldi, che non faceva movimenti strani. Sembrava, certo, sì. Però bisogna anche guardare chi si mette sotto tesoriere, chi ci si mette vicino. Perché sa, basta uno che non è onesto, rovina tutto il partito. Cosa, cosa, cosa? Ma cos'è la storia della Padania? La Padania! Ma è un'invenzione di chi? La secessione! Ma la secessione non c'entra. È in Italia da 150 anni la Padania, se esiste. Secondo me è inventata, è una cosa inventata, no? Comunque io dico che bisogna vedere bene. Adesso le prossime elezioni speriamo che intanto dovrebbero cambiare i politici. Deve rinnovarsi, devono andare... Quindi anche Marroni che dicono che sarà il prossimo capo. Marroni ha fatto delle cose molto importanti contro la mafia, quindi mi sembra abbastanza in gamba. Adesso poi non lo conosco molto bene, però mi sembra che fra tanti c'è anche Tosi che mi piace molto, eccetera. Quindi secondo lei la Lega potrà ripartire senza gravi ripercussioni dopo questa cosa? Sì, se mette gli uomini giusti e senz'altro sì, insomma può ripartire. Certo non sarà più... Prima era alleato con Berlusconi, adesso... La gente si dimenticherà in fretta di questo brutto episodio. È come si è dimenticato per tutte le altre cose, però non bisogna ricaderci più perché sennò è un guaio, eh. Il Bossi. No, non mi pronuncio. Voi fedelissimi Bossiani. Non mi pronuncio, è tutto uno schifo, come tante altre cose. L'attacco verso di lui o lui che... No, tutto, tutto, tutto quello che sta succedendo. Ci mancava anche questo, siamo a posto. Ma se lo aspettava? No. No, non si pensava. Ma forse non è neanche vero. Eh, perché adesso dicono quelli della Lega ovviamente che dicono che è tutto fango, che si butta addosso. Quello che non si fa non si sa. Si buttano addosso il fango l'uno con l'altro. E invece, e noi stiamo andando alla deriva. Io non riesco a capire perché questi uomini non sono uomini. Dicono che sei un complotto. Sì. No, mica vero. Guardi, è una roba... No, no, comunque guardi, stiamo veramente, veramente male. Qualcuno dice che è colpa dei giudici. Sono i giudici che vogliono riportare il suo vero e chiare, il potere. Eh, no, ma neanche i giudici. Qualcosa c'è sempre sotto. Quando se ne parla qualcosa ce n'è sempre. Impossibile che sia tutto inventato. Ma... Prenderà una batosta la Lega alle prossime elezioni? Oppure secondo voi... No, no, di politica non me ne intendo proprio. No, no, di politica guardi. Io dico che saremo nei guai grossi perché non c'è nessuno che è veramente... Con le mani pulite. Se almeno fosse andata la cicciolina a Monza, votavamo la cicciolina. Ma meno quella. L'aspettava? Sì, ormai era... Ma si aspettava le dimissioni o ancora prima si aspettava il puttiferio che si è scatenato intorno alla Lega? No, mi aspettavo sicuramente le dimissioni. E inoltre, insomma, poi bisogna anche dire che ha 22 anni di carriera da segretario. E' il più vecchio segretario dei vecchi partiti della prima repubblica, non della seconda repubblica. E poi c'è da dire che diciamo che questo governo, Monti, sta spiazzando tutti i partiti. Perché mi aspetto altri sommovimenti, anche a sinistra. Per cui vedi che c'è Renzi, ci sono vari giovani che scalpitano, ecco. Cosa ha sbagliato secondo lei Bossi? Per arrivare a questa situazione? Fidarsi di qualcuno di cui non ci si doveva fidare? Guardi, fare la retroscena politica adesso quando uno è K.O. Mi sembra anche un po' crudele, diciamo. Però, chiaramente, la sua scelta politica di unirsi stabilmente a Berlusconi era già mal vista da molti militanti della Lega. Poi, nel momento in cui è crollato Berlusconi, diciamo, a livello politico, è chiaro che anche Bossi rischiava moltissimo. Il discorso, invece, è personale, eccetera, a quale li lasciamo... Anche lui stesso ha detto che non doveva portare i fili in politica. Dice che è anche quello il motivo per cui è andato tutto lo scatafascio, può essere. Ma, diciamo che, storicamente parlando, a parte la famiglia Bush negli Stati Uniti, però è di solito... Oppure la famiglia Kennedy, ecco, però tendenzialmente i fili in politica è meglio che facciano la loro vita. Poi può anche darsi che siano migliori dei padri, non è detto, però in questo caso, diciamo, che le avvisaglie c'erano un po' tutte, ecco. Questa storia della ristrutturazione, che ha fatto un po' sorridere tutti. Ordo, va bene, il discorso di Scaiola, la parificazione con Scaiola, eccetera, però... Guardi, queste cose private direi di lasciarle stare. Diciamo che l'aspetto politico è quello fondamentale, ecco. L'aspetto politico è quando, nel momento in cui è crollato uno dei due bastioni dell'alleanza del centrodestra, è chiaro che anche l'altro aveva molti rischi. Si è piazzato l'opposizione dura e pura, ma si sapeva benissimo che la Lega era in una posizione difficile, ecco, a livello politico. Poi dopo, come ripeto, i discorsi personali sono quelli che sono, i discorsi politici sono gli altri. Il fatto stesso che nella Lega erano mesi che si discuteva tra Marognani, Bossiani, eccetera, indica che c'era una diversità di visione politica, cioè l'alleanza dura e pura con la destra era crollata e dovevano trovare una nuova visione politica. Qual è la visione politica della Lega? Adesso dovrebbe finire in mano a Maroni, dovrebbe essere lui la nuova guida, cosa ne pensa? Ma Maroni potrebbe essere, diciamo così, Martello o Incudine, potrebbe essere tutte e due. Secondo me la Lega si isolerà ancora di più con Maroni, è la mia visione personale. Cosa, un bene o un male? Diciamo che per il Nord è un male questo, perché è un male, perché bene o male molte istanze che sono state lanciate dalla Lega erano anche giuste, il discorso delle tasse, il discorso anche di avere più pulizia, ecco, tra parentesi, tra virgolette, più pulizia all'interno dei partiti che poi dopo la Lega non si è riuscita a far coniugare le parole con i fatti, questo è un altro tipo di discorso, però tutte queste parole d'ordine ci sono, però secondo me con Maroni potrebbe esserci un isolamento. Bisogna vedere anche se la Lega rimarrà come adesso, perché io alcuni mesi fa, per motivi personali, sono stato un po' di settimane in Veneto e i Veneti, devo dire, che erano già stanchi di stare nella Lega così com'era, perché i Veneti hanno un po' una visione diversa, diciamo, hanno una visione più concreta. Ecco, i Tosi, anche lo stesso vice sindaco, anche il sindaco di Treviso, lo stesso Zaia, hanno una visione un pochino più indipendente anche dalle posizioni che proponeva il governo già nel periodo da maggio-giugno in poi, ecco, poi dopo con il corollo di Berlusconi, eccetera, e con l'avvento di Monti, un governo particolare in cui non si capisce più niente chi è maggioranza, chi è opposizione, chiaramente tutto si spariglia. Io ho votato leghista della verità e... Lui rifarebbe? No. Perché? Perché no. Perché no. Dice che lui purtroppo è stato... È un po' tutta la classe politica compromessa. Tutti dicono che non sapevano, anche Rutelli non sapeva niente. Eh, ma lui dico che era circondato da persone poco affidabili. Eh, va beh, insomma, una classe politica che va rifatta. Deve controllare. Tutta e tutta. Deve controllare le persone che ha intorno, non può, secondo me... E alla prossima elezione, secondo voi, perderanno un po' di voti? Senz'altro. Sarà dura. Sarà dura. No, perché a fronte di questo governo tecnico che sa fare delle cose veramente utili e deve praticamente rinnovare tutto il sistema politico, non sarà facile accettare le vecchie facce. E se un domani invece si dovresse ripresentare nel 2013 Monti e la sua squadra? Eh, penso che riscuota molti consensi. Ecco, questa è la nostra impressione. Anche se dovremmo mettere in mano il portafoglio, ma abbiamo il dovere tutti di contribuire al risanamento del nostro paese. Ma secondo voi, cosa ci fanno tutti quei politici lì, seduti? Eh, insomma... Sui banchi? Sì. Io ho già una certa età, ho vissuto la politica dagli anni 50, ma la classe politica era meno compromessa di quanto sia oggi. Il politico di allora era un politico che vedeva nella politica una fede. Oggi mi sembra che sia diventato un mestiere come un altro, dedicarsi alla politica, anche per raggiungere degli scopi economici. Vi saluto. Ha perso la passione pure lei. Eh, un po' sì, eh. Poi con l'età viene sempre meno. Noi che abbiamo vissuto la storia d'Italia dal 45 a venire in avanti, dobbiamo ritenere che stiamo attraversando un momento veramente difficile. Guardi, è una delusione unica. Mi dispiace, ma mi ha ferito e basta. Lei se lo aspettava. Ma dicono che non è colpa sua, dicono che è un complotto. No, guardi, questi deputati, tutti questi, dovrebbero venire giù una bomba e farli fuori tutti. Ma proprio tutti? Non ne sava neanche uno? No, neanche uno, perché non ce n'è uno che si salva. E quindi nella prossima elezione cosa facciamo se si ripresentano ancora questi? No, io non li voto. Mi dispiace. E chi vota? Nessuno. Scheda bianca, perché devono andare tutti a casa, perché è una vergogna sacrosalta. Pensi che bello una marea di schede bianche, solo schede bianche? Sì, sarebbe la cosa ideale, perché noi italiani siamo dei cruglioni. Oh, così si deve. No, ma è vero, non è possibile una cosa. Allora, la Margherita ruba, i bossi ruba. Proprio del bossi non me la sarei mai aspettata. Però ha rubato anche lui. Ma ne siamo certi? Lui si è dimesso, perché la verità c'è. Con la fiducia che gli hanno dato, gli italiani al bossi, vedere una cosa così, con un figlio così. Io, se mio figlio, gli scentro la testa. Perché cosa c'è la povera Lorenzo? E beh, capirei. È stato tutto lui, è la madre. Insomma, questo non è giusto. Dicevano che la Lega fosse il banco mat dei familiari. Sì. Può essere. Sì, può essere, sì. Ma nessuno controllava. Ma lui mi ha deluso, lei mi sta riprendendo, madonna Santa. Ma chi controllava? Non lo so, sono tutti i guardi, i marci. Quello più sano c'è la rogna. Se lo aspettava? No. No, boh, non mi interesso molto di politica io. Non è che mi piaccia molto. Ma lei vota? Eh beh, certo. E quando va lì a votare? Eh, ma io voto. Dopo aver sentito tutte queste cose? Con che spirito e soprattutto come fa uno a fare una scelta? Eh, lo so, è difficile. Difficile, difficile però. Ma bisogna farlo? Beh, bisogna farlo, certo. Tanti stamattina mi hanno detto sono delusissimo, io non voterò, pure o esche da bianca. No, perché? Votare bisogna votare. Troveremo un partito meno peggio. Eh, vediamo. Qual è? Non si sa. Mi dispiace tanto. Lei era in via Bellerio negli ultimi giorni a manifestare? No, io sono di Milano ma non ero in via Bellerio, però mi spiace tutta questa faccenda perché io reputavo delle persone oneste. Magari lo sono ed è tutto un complotto. Magari lo sono ed è tutto un complotto, sì perché è venuto un po' ad hoc. Comunque spero si risolva, ecco tutto quello. C'era da aspettarselo? No. Ma colpa sua? No. Delle persone che gli girano intorno? Ma no, assolutamente, io non lo so. Si vede che quando sono poi in tanti non si riescono più a gestire. Adesso c'è il Maroni. Speriamo in bene, arrivederci. Non so se delusione, tristezza, mi spiace molto però, se hanno fatto i furbi... Ma lei ci crede al fatto che abbiano robacchiato dei soldi? Nel borsa della Lega? Non lo so, non lo so. La certezza che non l'abbiano fatto non ce l'ho. Lei non ci mette la mano sul fuoco? E tanti leghisti invece lo dicono io ci metto la mano sul fuoco. Io non ce la metto la mano sul fuoco perché se ne sono viste troppe e tutti quando vanno al potere si lasciano invischiare. Mi dispiace, veramente mi dispiace perché io avevo una buona impressione, ho votato anche Lega, quindi non sempre perché dopo il primo libaltone... E adesso? Secondo lei tanti altri non voteranno più Lega oppure una volta fatta pulizia ritornerà come prima? Sì, ci sono a vedere se fanno pulizia e se viene fuori bene la cosa perché è una grossa delusione. Diciamo che prendono quei due o tre colpevoli, chiamiamoli così, li cacciano... Qui di colpevoli se parliamo dal capo... Ci sono più di due o tre. È un po' dura. Quella miseria. Sono mica tutti invischiati? Ma io mi auguro che non sia nemmeno boss invischiato, però mi lascia qualche dubbio. Perderà un po' di voti la Lega, un po' di consensi? Sì, sì. Secondo me sì. Secondo me sì. Mi dispiace ma penso proprio che qualcuno... Io sono uno di quelli che in questo momento, dovessi andare a votare domani, non la voterei. Quando poi ci sono i chiarimenti... Ma il fatto di aver messo il figlio anche in regione? Ah, quella non mi è piaciuta proprio. No, 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 no. Ma è da tutti. Lei per i suoi figli non farebbe niente? No, lo farei anch'io. Ha visto, ha visto. Lo farei... Farello. Io lo dico, lo farei anch'io come lo fanno tutti. Sì, però messa lì così non mi è piaciuta. Da una persona così retta, così... Sta continuando a... Così retta, non mi è piaciuta. Per me è stata una sorpresa. Comunque... È un complotto. Ma non lo so. Si dicono dall'ambiente del Lega. C'è da dire che la magistratura italiana molte volte va... Prende anche delle vie quasi su dei teoremi. Ci sono queste intercettazioni telefoniche. Sì, sì, ma non... Sono credibili? Ma... L'intercettazione di sé è credibile. Però bisogna contestualizzarla in un discorso forse più ampio. Comunque... Non lo so come. Comunque la figura è stata fatta, diciamolo. Sì, sì. Sì, sì. E adesso per la Lega si aprono tempi duri? Oppure tra un mese si saranno tutti dimenticati della cosa? Tutto come se fosse fosse. Tutte le cose passano. Quindi... Al di là di questa ondata può darsi che le cose si... C'è da dire che ha perso la sua virginità la Lega. Quindi è considerata... Può essere considerata la strega degli altri partiti. Quindi... Secondo lei qual è stato l'errore di Bossi? Che l'ha portato alle dimissioni? Per me il familismo, prima cosa. Questa è la cosa più... Io non sono leghista, devo dire. Perchè tutto dall'esterno, no? Per cui... Il familismo è la... È la piaga... È l'origine di molti... Poi ritendono a portarsi in ditta il figlio. No, 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 no. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Io ad esempio ho due figli che fanno il mestiere completamente diverso dal mio. Vuoi perché non hanno purmente le attitudini. Vuoi perché come impostazione è meglio che i parenti non siano... Non si aggreghino diciamo al padre, altrimenti si fa un'altra cosa. Quindi è stato un errore... Madonna... Renzo Bossi... Madonna... 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 Poi dopo l'amore, non so questo. Però il figlio già in sé rappresenta un caso, ecco, secondo me. Poi valorizzarlo in quel modo è stato un errore. Che sia colpa del padre, di Bossi come padre. Come politico senz'altro. Come padre non lo so. Grazie a tutti voi che avete seguito anche questa settimana il Sasso Nellosagno che abbiamo voluto dedicare al Dio di Bossi e alla sua Lega Nord. Grazie cari amici ascoltatori. Grazie da parte mia anche a Riccardo Ravezza per le immagini e il montaggio del Sasso Nellosagno che tornerà a farvi compagnia se vorrete tra sette giorni sempre su Antella 2 TV. Grazie.